bella a tutti ragazzi qui Ademeyang benvenuti in questo nuovissimo video siamo tornati sui pronostici delle top partite estere la schedina di serie A sta andando abbastanza bene con i risultati di ieri che ho azzeccato tutti ampiamente oggi saranno le altre partite di serie A vi andrò a considerare invece le partite dei campionati appunto esteri domani uscirà il pronostico per quanto riguarda la serie A dato che ci sarà il turno infrasettimonale e poi martedì ci sarà il TGA4 che sarebbe perché non lo sapesse andiamo a vedere quello che è successo nella quarta giornata di serie A iniziamo con Offenheim Erta Berlino Offenheim che secondo le prestazioni dell'anno passato sarebbe favoritissima per me invece ci sarà il pareggio dato che l'Offenheim è in calo nelle ultime partite e sta perdendo tutte Chelsea Arsenal sicuramente uno scontro dove è difficile prevedere chi avrà la meglio per me però il Chelsea vincerà dato che l'Arsenal anche a parte la vittoria con il Colonia dove era anche partito male non riuscirà a giocare proprio bene fuori casa a Wembley e quindi il Chelsea trionferà Amiens Marzia Marzia che secondo me dominerà e vincerà questa partita senza alcun problema Bayern 04 Leverkusen Friburgo ovviamente super favorito il Bayern Leverkusen che per me infatti vincerà contro il Friburgo e cercherà di tornare in Europa dopo che l'anno scorso ha evitato nelle ultime giornate la retrocessione Girona Siviglia vado a consigliare ovviamente il 2 del Siviglia fuori casa anche se favoritissimo Manchester United Everton vi consiglierei un over 1,5 over 2,5 perché secondo me ci saranno molti gol se vi devo consigliare un 1x2 sicuramente vi consiglierei l'1 del Manchester United che è favorito dato che l'Everton nelle ultime le perde tutte ha perso anche con l'Atalanta 3-0 in Europa League sicuramente in calo René e Nizza che è data addirittura per sfavorita secondo me invece continuerà la striscia positiva e vincerà fuori casa contro il René e rincorrerà un'altra volta la Champions League Angers-Metz partita della Francia secondo me vincere all'Angers favorita secondo le quote riuscirà a tornare secondo me anche largamente La Spalmas-Atlantic Bilbao le quote sono abbastanza alla pari vi consiglierei però il 2 dell'Atlantic Bilbao che secondo me è sempre favorita quando si tratta di squadre più o meno alla pari Real Sociedad Real Madrid qui vi stupisco vi consiglio un x Real Sociedad che è a punteggio pieno non è più prima in classifica dato che il Barcellona ha vinto ieri contro il Getafe però comunque se dovesse vincere raggiungerebbe nuovamente il Barcellona in vetta Real invece che ora è a meno 7 al Barcellona dovrebbe tornare a meno 4 una vittoria secondo me invece queste due squadre pareggeranno e Real Sociedad sarebbe comunque a due punti dal Barcellona mentre Real sarebbe a meno 6 e anche dall'Atletico sarebbe a meno 2 quindi secondo me pareggerà dopo anche la stanchezza che si è accumulata in Champions però questa è abbastanza rischiosa se vi fidate davvero di me giocate PSG Lione vi consiglierei l'uno del PSG che davvero sta giustando di avere un bel calcio Lione invece che anche in Europa League contro la Bonoli Massolo ha pareggiato 1-1 anche se fuori casa comunque Lione dopo che ha venduto la KZ non sta facendo come l'anno scorso per questo favorito secondo me il PSG Espanyol-Seltavigo si gioca domani favorito l'Espanyol secondo le quote vi vado a pronosticare il 2 del Seltavigo che secondo me vincerà per 1-0 fuori casa questa anche rischiosa quasi come quella in Real Madrid l'ultima partita si gioca oggi alle 18 Borussia Dortmund-Colonia secondo me il Borussia Dortmund trionferà e anche ampiamente dato che il Colonia ormai è ultimo in classifica secondo me quest'anno rischia anche di retrocedere questo video finisce qui mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un bel like bella